ciao a tutti amici benvenuti ad una nuova avventura chiamata futura sono manuel e oggi il piacere di mostrarvi il famosissimo celeste non poteva mancare nei nostri archivi su aerion quindi è giusto parlarne celeste è un bellissimo platform bidimensionale che vi metterà realmente alla prova madeleine è la nostra protagonista dovrà scalare questa immensa montagna chiamata appunto celeste lo scopo è molto importante in quanto è proprio lo scopo della trama a darvi il motivo di questa scalata perché va a trattare temi importanti come la depressione la tristezza quindi riuscire a passare un livello sarà come cercare di alleggerire un po sia il peso della nostra protagonista che magari anche il nostro se state vivendo un momento particolare è un platform difficile un platform di precisione dove dovrete continuare a saltare scattare in volo saltare ancora aggrapparvi qualche corda e procedere ci sono oltre 700 schermate e alcune sono veramente spietate soprattutto se siete hardcore gamer e volete affrontare il lato tra virgolette b della sfida detto questo nella montagna ci saranno anche molti livelli segreti che vi consiglio di scoprire una bellissima ambientazione in pixel art e una buona colonna sonora accompagnati da una giocabilità perfetta faranno in modo che si continuerà a morire ma a ritentare questo gioco non sarà per nulla frustrante se lo prendete naturalmente dal verso giusto quindi piuttosto fermatevi riposatevi cambiate un attimino gioco e vedrete che la montagna vi chiamerà e una volta che siete riusciti arrivare in cima sarete molto soddisfatti di voi stessi grazie per essere rimasti con noi continuate a seguirci anche nella nostra pagina di steam